Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per i tanti commenti che avete inviato, sono già arrivati alcune centinaia di vostri contributi. Sono tanti gli argomenti che avete proposto, il trasporto notturno verso i locali di divertimento, il tema della movida, il tema della casa, il tema dei diversi spazi di aggregazione e per questo abbiamo pensato di creare altre occasioni per confrontarci con voi. Vi faccio da subito due nuove proposte, la prima abbiamo aperto una nuova pagina Facebook dedicata a voi per continuare a confrontarci su questi temi, la seconda è un evento che stiamo organizzando per fine gennaio durante il quale discutere direttamente con voi delle problematiche che riterrete maggiormente importanti. Grazie per la visione!